Le novità principali che H presenta qui al Made sono varie in verità. Naturalmente c'è il BIM perché nel DNA di H c'è il BIM con le nuove versioni di Edificius della parte Land e poi quest'anno proponiamo due novità di attualità che sono legate al calcolo strutturale. Una è legata alla classificazione del rischio sismico degli edifici di cui recentemente è uscita la linea guida con due prodotti, uno per il calcolo semplificato della classificazione del rischio sismico e uno per il calcolo convenzionale. Poi c'è un'altra novità sempre legata al calcolo strutturale che è quello del certificato di donità statica in particolare legato al comune di Milano ma in verità è una tematica che molte altre amministrazioni stanno affrontando e che noi come sempre siamo pronti ad affrontare in maniera professionale per i nostri clienti.